Su Calenda la risposta che io posso dare innanzitutto è finalmente, finalmente è che il Ministro si accorge che per superare l'immobilismo decennale che c'è su Roma serve mettersi insieme e lavorare a un progetto comune. Noi lo dicevamo da quando eravamo all'opposizione, quando siamo arrivati qui in maggioranza, abbiamo lanciato insieme ai sindacati con i quali abbiamo già sottoscritto un protocollo e il nostro progetto Fabrica Roma che sta andando avanti. Abbiamo sollecitato più volte il Ministro a sedersi al tavolo, come dire, non più tardi che mai, noi siamo qui, lo aspettiamo, del resto io capisco che ci voglia coraggio per provare a superare i particolarismi anche politici e lavorare a un progetto comune. Noi siamo dell'idea che l'unico modo per rilanciare la città, l'abbiamo detto più volte, è quello di sedersi tutti intorno a un tavolo, condividere gli stessi obiettivi e lavorare su questo. Siamo assolutamente ben disposti ad accogliere il Ministro e siamo assolutamente contenti che abbia finalmente dato la sua adesione. Grazie a tutti.